Grazie a tutti 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 Stabilizziamo bene le spalle e colpisco la compagna che facciamo Squat e colpisco Ok? Vai Dobbiamo fare 6 Squat e colpisco Squat e colpisco Spremiamo gli addominali Vai vai, stiamo più giù con il bacino Stop 3 L'appoggio del piede Non è un'altra Non è un'altra non è un'altra Non è un'altra